Ehi, dove stai guardando? Sediamoci! Ciao, sono Donatella e vi volevo raccontare questa storia. Praticamente un paio di settimane fa, tornando a casa all'Aquila per chi studia lì, sono lì... Aspetta! Comunque, tornando a casa, la prima cosa che ho fatto, come sempre, ho acceso internet, mi sono collegata su Facebook, da cui mi sono iscritta da una settimana, e subito dopo ho visto che mi era arrivata un'email e praticamente io, mio padre, che purtroppo non ho più, però mi è da ride, mi è proprio da ride, praticamente io ho perso mio padre quando ero piccolina e lui, prima che sposasse mia madre, aveva un'altra donna, da cui ho avuto due figlie. Una delle due purtroppo non c'è più neanche lei, una storia drammatica la mia, mentre quest'altra, quest'altra che sarebbe comunque mia sorella, io non l'ho mai conosciuta. Ovviamente comunque ho ricevuto un'email da lei, in cui lei mi diceva di essere comunque mia sorella e praticamente, l'ho detto troppo praticamente, dopo vent'anni della mia esistenza si è fatta viva, è sbucata, forse è proprio grazie a Facebook, perché da quando l'ho visto... ho avuto modo comunque di parlare con lei tramite email, e mi ha detto che io sono zia di due ragazzi, uno di 18 anni e uno di 11, quindi hanno un paio di anni in meno a me che il primo, e niente, lei comunque vorrebbe conoscermi, io vorrei conoscere lei, e spero veramente che un giorno potrò conoscerla. Gloria, spero che tu vedrai questo video, perché ne potrai avere l'opportunità, visto che lo metteranno su... Tech Lovers. Yeah, grande Tech Lovers. Spero che con questo video tu riuscirei a capire quanta voglia ho io di vederti, e spero che prima o poi ci incontreremo, tesoro mio. E voi votate, perché anche io non me lo ricordo più, perché anche io sono una Tech Lovers. Mi chiamo Donatella, ricordatevelo sempre, questo nome mi verrà impresso nei vostri ricordi, menti e cose varie. Un bacione a tutti, Tech Lovers forever!